Ciao! Buongiorno, Hello Kitty! Spero tu abbia dormito bene! Ah, ha dormito benissimo! Tu invece, Maimelody? Ma che cos'è questa cosa sopra la mia testa? A me non sembra molto divertente! Maimelody si è svegliata di malumore! Malumore? Io? Preparati per una bella sorpresa, Maimelody! Di solito sono piena di caramelle, non è vero, Kurami? No! Ogni malumore è differente! Non sembra così male! O almeno non così tanto! Tranquilla, Maimelody! Ci pensiamo noi! Forza! L'operazione non bifraggio inizia ora! Non sarà un po' imbarazzante? Niente affatto! Ora cospargerò il tuo amore! Tutta! Woppa! La stanza! Kurami! Da questa parte! È piuttosto ostinato questo umore! Beh, non mi sorprende! Anche il mio buonumore è difficile da rovinare! No! Non è affatto pieno di caramelle! Aspettate! Sapete che un atto di gentilezza può risollevare il morale? Allora vi andrebbe una ciambella! Sì, grazie! Ero convinta funzionasse! Sì, grazie! dobbiamo trovare qualcosa che rallegri la giornata di Maimelodi ah, ci sono! cos'è? ciao amici, grazie per aver guardato le avventure di Hello Kitty e i suoi amici iscrivetevi al canale YouTube e non dimenticate di attivare le notifiche così da non perdere le nostre prossime avventure, a presto!